Il Pini è imbiancata dalle prossime ore per tutta la notte e si teme per la formazione del ghiaccio lungo le strade mentre il bollettino della protezione civile della regione campagna annuncia altra neve per tutta la giornata di domani anche a quote basse fino a 200 metri per domani hanno già stabilito di tenere le scuole chiuse comuni di Pietrastornina, Ariano, Bonito e Gesualdo sono proprie comuni ad avere le maggiori difficoltà le amministrazioni comunali nella giornata di ieri si sono mostrate impreparate a cominciare dallo spargimento del sale la stessa prefettura ha avuto difficoltà a mettersi in contatto con i vari enti per tutta la giornata sono molti i comuni che ancora non sono riusciti a coprire le spese dell'emergenza 2012 e di conseguenza non sono nelle condizioni di poter chiamare ditte per poter provvedere a spalare la neve o a ripulire le strade stamane durante il vertice che si è tenuto in prefettura è stato chiesto alla provincia in caso di necessità di intervenire al posto dei comuni almeno nelle zone dove ci sono gli ospedali una situazione davvero preoccupante quest'ultima soprattutto se l'annunciato peggioramento di domani dovesse puntualmente verificarsi come è accaduto già ieri sera e la scorsa notte io lo evidenziai che l'affidamento da servizi almeno per la seconda parte l'estensione era un affidamento che non rispettava i canoni della legge il comune ci ha messo circa un anno per capirlo non vi fate condizionata quella sentenza del tar perché quella in realtà ha rigettato la revoca per difetto di motivazione perché non ha detto il comune qual era l'interesse superiore e in più sul problema della fiducia perché il comune ha detto potrebbe essere ma le commissioni tributarie hanno capito bene quindi questo significa che tutti gli avvisi soprattutto sull'Imo l'ho detto anche oggi su un quotidiano è stato detto anche su un quotidiano sono tutti da ritenere nulli e per l'affidamento che è contro legge è perché firmare da soggetto non abilitato per quanto riguarda il comandante Vigilurbani abbiamo più volte riferito in aula che quel procedimento fatto alla persona era sbagliato perché la legge non lo prevedeva loro hanno aggirato la legge facendola col comune e non con la persona oltre al fatto che abbiamo già detto all'inizio dei pignoramenti quando un dipendente del comune in una conferenza stampa a dire che un membro dell'opposizione ha fatto due denunce io vorrei sapere due cose una, se esiste ancora il diritto di riservatezza rispetto agli atti giudiziari quindi questo venesse a dire chi gliel'ha detto questo tizio e nello stesso tempo dicesse anche chi è che ha sottoscritto, chi ha firmato questa denuncia perché a me da quello che mi risulta nell'ambito dell'opposizione non c'è nessuno che ha firmato una denuncia se non un esposto che abbiamo fatto tutti noi il 28 dicembre di quest'anno per le scelte che si compiono mi pare invece che il sindaco Foti e questa aggiunta siano fortemente applicati a danneggiare il più possibile gli avellinesi noi questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che il consiglio comunale sia di fatto chiuso come un campo impraticabile di calcio e quindi ci muoviamo per esposti, per report al prefetto, per conferenze stampa per allertare l'opinione pubblica e le istituzioni preposte di quale sia la condizione su quest'anno Il segretario provinciale del PD, Carmine De Blasio, si è dimesso nel tardo pomeriggio di oggi l'annuncio attraverso queste poche righe spero che qui il mio gesto il PD possa finalmente riprendere il necessario e concreto impigno verso i problemi del territorio. È importante lasciarsi presso alle spalle questa lunga e negativa fase che non meritano i nostri cittadini, i nostri iscritti e i nostri amministratori Guardiamo ora con fiducia e positività le tante sfide che ora attendono l'Irpinia e il Partito Democratico Dove un braccio di ferro con una parte del PD pari per l'esattezza del 50% dell'Assemblea provinciale si conclude dunque una fase tormentata al PD irpino che ha visto contrapporsi da una parte la componente maggioritaria che fa capo al senatore De Luca ed altri dall'altra le componenti che hanno come riferimenti Valentina Paris, Luigi Famiglietti, Rosa D'Amelio e Gianluca Festa È difficile stabilire a questo punto se De Blasio abbia maturato la decisione di sgombrare il campo da ogni equivoco per responsabilità verso il partito oppure si è acceduto alle pressioni anche romane per evitare una nuova Assemblea che probabilmente lo avrebbe visto soccombere in ogni caso il gesto dell'ormai ex segretario pone fine ad un minuetto che di certo non ha giovato all'immagine del PD irpino ora si attende la decisione del partito centrale e regionale per le modalità di gestione del PD in questa fase di transizione che dovrebbe condurre verosimilmente nell'autunno prossimo al congresso straordinario l'ipotesi più probabile anche in ragione delle indicazioni della segreteria regionale è che si giunga ad un direttorio rappresentativo di tutte le componenti del partito all'orizzonte si prospetta comunque un congresso dagli esiti assolutamente incerti le componenti del PD che hanno tentato di sfiduciare De Blasio senza riuscirci infatti non hanno un progetto comune e sono allo stato dei fatti comunque minoritarie per dirla con Pepino De Filippo insomma sono anime del PD vincole per far fuori De Blasio ma sparpagliate verso l'obiettivo del nuovo congresso 100 dei 153 richiedenti asilo ieri hanno bloccato via Albanella si tratta degli ospiti del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa in opera sono uomini provenienti da Pakistan, Costa d'Aborio, Nigeria e Gambia che ieri hanno voluto denunciare in maniera forte le difficoltà che quotidianamente da mesi stanno affrontando gli immigrati lamentano la mancanza di acqua calda, riscaldamenti e cibo scadente una situazione resa ancora più insopportabile dal mancato rimborso da ottobre infatti non ricevono il pocket money il contributo giornaliero di 2,50 euro che a loro dire viene puntualmente pagato agli ospiti che si trovano in altri centri di accoglienza già in passato gli ospiti della struttura di Monteforte hanno denunciato condizioni di invivibilità il 5 gennaio avevano dato vita ad un presidio dinanzi alla prefettura di Avellino dove avevano denunciato la loro situazione bagni sporche, stanze piccole e sovraffollate che ospitano fino ad otto persone da allora nulla è cambiato e ieri gli immigrati hanno bloccato la strada creandone pochi disagi alla circolazione ai residenti della zona sul posto è stato necessario l'intervento di carabinieri e funzionari della Digos per ripristinare l'ordine pubblico queste persone rappresentano una parte degli oltre mille richiedenti asilo che vivono in Irpinia e che sono in attesa che la commissione prefettizia di Caserta i riconosca lo status di rifugiati politici in questi giorni di temperature rigide il bollettino della protezione civile infatti parla chiaro con gelo e neve anche nelle prossime ore un pensiero va rivolto anche a chi non ha la fortuna di avere un tetto sulla testa o un posto caldo dove ripararsi ad Avelino purtroppo non sono poche le persone che sono costrette a vivere al freddo e al gelo in questo periodo le cronache ci restituiscono spesso notizie di clochar morti assiderati proprio a chi è meno fortunato prima tv e serviti a domicilio hanno voluto dedicare una puntata che andrà in onda come ogni settimana domani sera nella quale viene lanciata una soluzione a mo' di provocazione per cercare di aiutare queste persone meno fortunate quest'oggi stiamo facendo una puntata al contrario nel senso invece di denunciare che le persone entrano all'interno di questi locali e non potrebbero facciamo una puntata al contrario per dire fate bene ad entrare perché con questo freddo vi capiamo e quindi lanciamo questa provocazione quest'oggi nel senso polizia locale comune di Avelino visto che questa struttura non la utilizzate in questo periodo di freddo ma freddo freddo ma che fa freddo che il freddo non è freddo ma è ghiaccio perché non l'aprite e la date proprio a disposizione di questi clochar che purtroppo non sanno dove andare Mattinata di tensione in Viale Italia dove un gruppo di immigrati circa una cinquantina sono stati fermati dalla polizia e dai vigili urbani per aver dato vita ad un corteo non autorizzato si tratta degli ospiti del centro di accoglienza di Torelli di Mercogliano che si stavano dirigendo verso la prefettura per richiedere i pocket money che aspettano ormai da tre mesi il corteo è stato fermato dinanzi all'istituto agrario di Avelino dove gli immigrati hanno esposto dei cartelli con su scritto tre mesi no cibo no soldi si sono registrati momenti di tensione tra immigrati ed agenti i poliziotti hanno cercato di convincere infatti il gruppo a far ritorno nel centro ma gli stranieri hanno attuato un sit-in proprio davanti alla scuola agraria creando caos e scompiglio c'è un problema praticamente che ha dell'assurdo nel senso che ci sono questi ragazzi che sono ospiti della cooperativa in opera che opera a Monteforte e la cooperativa in opera come tutti sappiamo è una cooperativa che è commissariata per effetto di mafia capitale l'assurdo è che questi ragazzi non mangiano da tre giorni sono in condizioni praticamente dove vengono ospitati di uno squallore inaudito perché stanno in 5, 6, 7 persone in una stanza sola oltre a questo praticamente nella stanza c'è lo stesso bagno non hanno la possibilità praticamente di mangiare un posto dove mangiare la qualità del cibo praticamente è una qualità scadente tre mesi non mangiare, non portare mangiare e tre mesi non soldi noi abbiamo capito per soldi ma per mangiare è impossibile non haca, non mangiare così non fa bene sempre rivolta, non lavora niente niente non cambiare membri della prefettura parlo sempre sempre di cambiare il sistema la prefettura di Avellino non cambiare niente dolore e commozione ora dopo ora lasciano spazio al ricordo Ettore Scola, mostro sacro del cinema italiano internazionale nato a Trevico 84 anni fa e venuto a mancare ieri sera lasciò giovanissimo il tetto di Irpinia per trasferirsi a Roma in baronia tornava sovente d'estate nella casa di famiglia lui che del grande schermo era maestro non amava tanto i riflettori fino ad apparire quasi lontano, certamente schivo, verso la terra madre da cui non si era in realtà mai distaccato quel cordone ombelicale Scola se lo trascinerà per sempre dietro anche nella vita professionale Trevico Torino, tra i film meno noti di Scola è il manifesto del rilancio della questione meridionale la storia di un irpino è andato via per sempre per entrare in Fiat a Torino e l'impegno sociale di Scola nel cinema da militante convinto dall'ex partito comunista qual era la tessera e il libro, la buona politica in una parola per Scola, la cultura poteva cambiare in meglio il mondo con la settima arte ha sublimato temi universali raccontando l'amore, le discriminazioni, i partiti con un taglio che era sarcastico e realista, rabbioso ed emozionante largamente amato ed apprezzato perché vicino al sentire degli italiani una giornata particolare, la famiglia, c'eravamo tanto amati brutti, sporchi e cattivi, romanzo di un giovane povero tra le pellicole più celebri un lungo elenco che non può non essere riduttivo per un regista che in quasi 60 anni d'attività ha narrato il bel paese, l'Italia povera ma bella e quella del boom, raccogliendo 4 nomination agli Oscar e tanti altri premi in carriera dalla Palma d'Oro ai molteplici Davidi di Donatello Gasman, Mastroianni, Loren, Sordi, Sandrelli, Castellitto anche l'elenco di attori e attrici che Scola a diretto potrebbe non aver fine a Trevico era attesa a breve una sua visita al comune Scola ha donato la casa di famiglia due anni fa in Irpinia, in anteprima nazionale venne presentata la prima mostra monografica a lui dedicata dal titolo Piacere Ettore Scola e che l'Irpinia gli sia rimasta dentro lo testimonia uno dei suoi piatti preferiti la minestra maritata che amava a cucinare con le sue mani hanno raccontato le figlie in una recente visita a Trevico Scola se n'è andato ad 84 anni protagonista di un'ultima pellicola girata dalle figlie Paola e Silvia con il suo contributo è il ritratto di un regista all'italiana il titolo Ridendo e Scherzando così se n'è andato il maestro Margherita e sia Luisa sono sorelle di mio padre Scacco allo spaccio di droga negli ambienti dell'Avellino Bene due persone sono state arrestate all'alba e tradotte in carcere per una terza tuttora ricercata emesso l'obbligo di firma provvedimento che potrebbe tramutarsi in altro se la latitanza dovesse proseguire sono le misure cautelari eseguite dagli agenti della squadra mobile della questura al termine di serrate indagini per il contrasto ad un fiorente giro di cocaina nel capoluogo a finire nei guai una pregiudicata di 51 anni ed un uomo di 28 sapevano di avere sul collo il fiato della polizia per questo si spostavano in maniera repentina o utilizzavano linguaggi criptati al telefono sprizze e caffè le parole chiave per indicare il luogo dell'appuntamento generalmente pub e locali di intrattenimento le intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno confermato l'attività illecita anzi fotografato il caso di dire gli agenti guidati dal dirigente Marcello Castello hanno immortalato la donna nei pressi di un locale mentre in abiti carnevaleschi atteggiamenti scherzosi e provocatori aggiungono gli investigatori riforniva ai clienti di stupefacenti professionisti, imprenditori disposti a pagare fino ad 80 euro per singola dose di giorno ligi al dovere di sera schiavi dello sballo hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni quelli che in gergo si definiscono abituali assuntori e che ora tremano perché potrebbero essere coinvolti loro malgrado nell'inchiesta è emerso pure che i pusher si rifornivano nell'Interlanda napoletano per poi presidiare il mercato dello spaccio avellinese che fruttava loro ogni giorno qualcosa come 500 euro di incassi in alcuni casi i clienti spesso amici o addirittura familiari venivano addirittura raggirati al posto della cocaina gli rifilavano dell'eroina l'inchiesta promette ulteriori sviluppi in attesa che il partito democratico determinasse le sue vicende politiche il sindaco della città è stato in religiosa attesa due mesi e mezzo in questi due mesi e mezzo il sindaco della città di Avellino ha ricevuto da alcuni settori solo insulti, improperi e diktat ultimativi e credo che ma questo lo dico sinceramente qualsiasi sindaco eletto una volta eletto non deve rispondere né a interessi personali né a interessi di parte ma corrispondere agli interessi della comunità anche se fosse il sindaco di una comunità di mille anime il lavoro da fare è tanto e quindi avevo necessità di chiudere questa in due mesi sostanzialmente non si sono avute le risposte che si immaginava di avere bene, si deve procedere ma questo non significa che il sindaco ha dichiarato guerra a chi che sia io non ho dichiarato guerra a nessuno sono un uomo di pace per indole quindi resta intatto il mio rispetto per il partito democratico i partiti che reggono l'attuale amministrazione che sostengono l'attuale amministrazione sono sempre come mio costume aperto al dialogo in verità 7-8 giorni fa c'è stata una riunione di gruppo voi siete attenti osservatori seguite queste vicende e avevo comunicato a conclusione dell'incontro che c'è stato con l'assessore Tomasone su tematiche di carattere urbanistico avevo comunicato ai consiglieri comunali di maggioranza presenti a quella riunione quali erano le mie intenzioni e quali criteri avevo immaginato di adottare per completare l'aggiunta l'ho comunicato non ho avuto nessun tipo di censura l'ho comunicato anche per le vie breve in questi giorni la Apple sbarca in Campania a Napoli per la precisione con un centro di formazione europeo una notizia che ha del sensazionale per la nostra regione visto che si tratta del primo investimento in Italia del colosso americano fondato da Steve Jobs a Napoli nascerà così il primo centro di sviluppo app d'Europa fornirà agli studenti competenze pratiche e formazione sullo sviluppo di applicazioni per IOS cioè il sistema operativo per dispositivi mobili dell'azienda californiana decisiva per la definizione dell'accordo è stata la collaborazione già acquisita con l'Università Federico II tra le sedi possibili c'è anche Bagnoli insomma l'infa vitale per tutta la regione Campania che punta di fatto a diventare il polo leader informatico non solo d'Italia ma d'Europa l'Europa è la patria di alcuni degli sviluppatori più creativi al mondo e siamo entusiasti di aiutare la prossima generazione di imprenditori in Italia ad acquisire le competenze necessarie per avere successo ha infatti detto Tim Cook CEO di Apple il fenomenale successo dell'App Store è una delle forze trainanti dietro gli oltre 1,4 milioni di posti di lavoro che Apple ha creato in Europa e presenta opportunità illimitate per le persone di tutte le età e aziende di ogni dimensione in tutto il continente il centro avrà una dotazione organica di 600 persone tutte si spera rigorosamente campane noi abbiamo indagato fondamentalmente la presenza di amianto nell'aria ambiente per valutare l'esposizione della popolazione quindi non un'esposizione professionale quindi quelle che sono le esposizioni non professionali per quanto riguarda il sito di Avellino e Broni perché l'abbiamo fatto in varie aree italiane rileviamo una situazione che è paragonabile ad altre aree in assenza di presenza di un fattore di rischio come quello dell'isochimica quindi la situazione riscontrata anche in prossimità dell'isochimica e comunque nell'area urbanizzata e all'intorno di questa sorgente di potenziale sorgente di contaminazione è risultata di avere una qualità confrontabile con aree dove non ci sono sorgenti specifiche come l'isochimica quindi con quello che è oggi un fondo considerabile un fondo questi sono i dati ambientali rilevati dallo studio poi c'è abbiamo fatto anche un approfondimento epidemiologico di cui poi parlerà anche quello non ha evidenziato una situazione di particolare rischio la situazione anche nelle postazioni che erano assolutamente vicine all'isochimica qui alla scuola dove è stato fatto anche il campionamento al campo sportivo tra il campo sportivo e la scuola ha evidenziato dei valori che possono essere presenti in qualunque altra realtà urbana quell'intervento ha migliorato perlomeno non è un intervento di bonifica ma come intervento di messa in sicurezza fa sì che non ci siano continuino non si continuino a rilasciare fibre nell'ambiente evidentemente se i risultati del monitoraggio hanno dato questo risultato diciamo che questo non vuol dire che l'area non debba essere bonificata ovviamente è da pochi minuti passata luna della scorsa notte qualcuno senza farsi notare attende nascosto nell'ombra il rientro a casa di Filuccio Tangredi il sindaco è stato a cena da un amico infilate le chiavi nella toppa fa appena in tempo a sdraiarsi nel letto che uno spaventoso boato fa sobbalzare l'intero condominio di Via Lagno una bomba carta dettona dinanzi alla porta della sua casa provocando per fortuna solo danni la paura per l'esplosione attraversa l'animo di tutto il popoloso orione di Cervinara e in particolare dei familiari del sindaco moglie e due figli le indagini avviate nella notte proseguite al mattino da carabinieri e polizia non sono indirizzate su una pista ben precisa cioè non si esclude nulla il sindaco ha dichiarato agli investigatori prima e dai giornalisti poi di non riuscire a spiegare l'inquietante gesto che di appalti milionari in giro non ce ne sono come qualcuno pure ha ipotizzato piuttosto potrebbe essere il gesto di uno sconsiderato la cittadinanza stia tranquilla perché non ci faremo intimidire Cervinara non è a rischio di infiltrazione sono le parole di Tangredi è solo il gesto di un disperato che forse non si è visto accontentato in qualche richiesta prosegue il sindaco continueremo ad operare nel rispetto della legalità e delle leggi dello Stato questo deve essere chiaro a tutti resta il giallo in piena regola almeno fino a che non si riuscirà a far luce l'agguato imperfetto stile camorristico impone una risposta tempestiva ed una profonda riflessione solidarietà a Tangredi e alla famiglia con dura condanna dell'intimidazione e l'auspicio di un rapido esito delle innagini vengono espresse da più parti a Tangredi eletto nel maggio scorso alla carica di sindaco per il secondo mandato consecutivo hanno già mostrato vicinanza in queste ore l'Udc comunisti italiani la proloco di Cervinara la presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio la Cisle il PD e tanti cittadini di Cervinara scossi dall'accaduto basta fuori pista in altre regioni per esercitare la professione di maestro di sci la Campania ha finalmente un albo professionale che in Irpinia avrà la sua sede operativa la decisione è stata adottata giovedì scorso a Palazzo Santa Lucia dopo anni di tentativi i 100 maestri di sci residenti in Campania hanno la possibilità di riunirsi in collegio come nell'arresto d'Italia a favorire l'incontro e le votazioni l'assessore regionale Chiara Marciani con l'ausilio di Luciano Magnani presidente del consiglio nazionale maestri di sci e Giacomo Bisconti direttore della commissione scuola maestri della federazione italiana sport invernali dopo gli scrutini sono stati eletti Roberta Cataldi presidente Luca De Marco vice e Marco Valerio Izzo tesoriere dei 16 collegi regionali costituiti in Italia quello della Campania è il primo e l'unico guidato da una donna Roberta Cataldi maestra di sci dal 99 del consiglio fa parte anche Marco Berardinone mentre la rappresentante in sede nazionale sarà Chiara Carratù l'istituzione del collegio dei maestri di sci afferma l'assessore Marciani era attesa da più di un decennio non solo dai maestri ma da tutti gli operatori del settore abbiamo colmato un vuoto è inoltre da sottolineare la scelta di Lago Laceno come sede legale del collegio si tratta di un segnale significativo per la più importante stazione scistica regionale che la nostra legge individua come polo principale in Campania dichiara soddisfatta l'assessore Marciani di Lago Laceno di Lago di Lago di Lago